Harris, l'ha trovato qui fuori. Dovete vederla. L'arma sembra attaccata chirurgicamente. Quando si dice dedizione totale. Cazzo. Non è possibile. Fermo. Un secondo. Lo prego, lasci che lo crivelli, sergente. Quell'arma è ancora calda. Dovete. Sì, sergente. Oh, mio Dio. Dobbiamo sapere esattamente dove colpirlo, così non sprechiamo le munizioni. Posso darvi una mano? Sono un veterinario. Sicura di volerlo fare? Ero più sicura quando ero nascosta. Dobbiamo trovare un modo per ucciderli. Non sopravviveremo neanche cinque minuti là fuori. Togliamo tutto. Sergente. Aspettate, qui c'è un organo. Guardate. Qui ne ho trovato un altro. Sì, anch'io. Ha qualche tipo di organo cognitivo, per caso. Niente lobo frontale, temporale e parietale. Non ho mai visto una scatola cranica simile a questa. Oh, cazzo. Che c'è? Cazzo. Che c'è? Vedi quello che vedo io? Cosa? Quelli che erano sul tetto sono spariti. Ce ne sono due dozzine che escono da quella porta. Li vedo. Sono in strada e vengono da questa parte. Vengono da questa parte. Sono in movimento. Ricevuto. Abbiamo un contatto a 300 metri. Dobbiamo andarcene. Presto, tenete. Che dobbiamo fare? Stanno arrivando. Dobbiamo muoverci. Sergente. Come si affazia questa cosa? Fa presto, Stavro. Li ho persi. Li hai persi. Sergente. Sono scomparsi. Non vedo niente. Eccoli. Ma che succede? Irruzione. Irruzione all'ingratto nord. Sono penetrati. Riunisco tutti gli uomini sul lato sud dell'edificio, ok? Li stiamo dietro. Che succede? Aduku, vai con lei. Sì, sergente. Imlay, hai granate HE? Ma hai uscire di casa senza, sergente. Copri il corridoio sul reddito. Cerca di trattenerli. Se dovessero arrivare, spara tutto quello che hai. Harris, dov'è quel manedetto l'autobus? Stop. C'è un nemico in avvicinamento. Andiamo. Sì. Sì, sì, amore mio. Newark, te lo dedico. Sergente, stiamo arrivando con l'autobus. Ok, l'autobus sta arrivando. Sta arrivando, ragazzi. Trento secondi e usciamo. Lei riferisci. Voglio un aggiornamento sulla situazione. Attendo notizie. È scaduto il tempo. Muori! È contatto! Dobbiamo andare. Questa è l'ultima possibilità. Coraggio. Qui dentro. Deve essere quello. Sta morendo. È così che si uccidono a destra della posizione del cuore. Capito. Ce ne sono altri di te! Andiamo via. Ecco, ragazzi, corretti! Tutti sull'autobus! Tutti su quell'autobus! Veloci, veloci! Sare! Dietro, bambini! Forza, dentro! Forza! Tutto bene! Tenete nocchio a tutti i settori in cui sparate! Fate allerta! Marines! Concentrate tutta la vostra potenza di fuoco a destra rispetto al cuore! Sì, sergente. Ne uccideremo, quelle cose. Applicate l'addestramento! Ragazzi, velivolo nemico a ore 3! Sempre sotto tiro, capito?